Questa manifestazione è stata per me una grande sorpresa, ma anche una grande soddisfazione, non solo perché è stata organizzata veramente in modo splendido, ma anche per la grande partecipazione dei miei cittadini e per tutti i miei colleghi sindaci, assessori e consiglieri che mi hanno supportato in questa marcia. Una serata come questa, che vede così tanta gente, così tanti amministratori al mio fianco, mi dà la forza per poter continuare questa battaglia. Battaglia che questa di questa sera è soltanto per sensibilizzare l'opinione pubblica, le forze politiche e tecniche, ma adesso tocca a me, nelle sedi opportune, sollecitare i miei colleghi sindaci a votare nel comitato di vaccino ad un bel no alla realizzazione di questo progetto.